La primavera del Veneto, la Pasqua, poi il 25 aprile, la festa di San Marco, un lungo ponte tra due epoche, il prima e il dopo, il passato e il futuro che è sempre più un futuro di autonomia. Una grande sfida, un progetto mai come oggi, sempre più concreto, una locomotiva irrefrenabilmente lanciata verso un traguardo mai così vicino. Con la Pasqua termina una settimana che profuma di buoni auspici. Il presidente Luca Zaia sorride e invia i suoi auguri ai telespettatori di Rete Veneta. L'augurio è sempre quello di essere in salute perché è la prima roba che auguro sempre ai miei Veneti e alle Venete, di essere in salute, di trascorrere con le persone che si amano, i familiari, insomma tutte le persone care questa Pasqua e speriamo sempre, come dico io, che poi solo i pessimisti non fanno fortuna quindi si buttiamo dietro i problemi e guardiamo il futuro con positività e che sia una Pasqua che grazie alla Pasqua, alla Santa Pasqua, alla Pasquetta e a San Marco ci porti l'autonomia.